Ciao amici di LaserJRBL In questa parte abbiamo il Scalfan S9 Il nuovo modello che Scalfan lancia nel 2022 Qui c'è la macchina equipata con un modulo di 20W 5.5 ottico modulo di laser 5.5 ottico che Scalfan vuole avere una tecnologie migliore che rende questo modulo capire più profondamente e con il risultato migliore e più risultato migliore quindi crediamo, ma vogliamo controllare Il primo test che faccio è un test di tagliamento di disc da Pliwood di 5 mm è un test che ho standardizzato e che faccio su tutte le macchine che ricevo abbiamo qui il LaserJRBL setto a 5 pass e facciamo il test del Scalfan il Corso il Corso ok, puoi vedere che il laser è passato fuori del materiale dopo tre passi ok, bene bene, solo quattro passi per questo potremmo vedere che il cut è molto seco, non caccia, non caccia nei bordi e anche seco nelle altre parti anche il cut del pezzo è molto seco ecco, ho creato un test con diverse parti di font inizio da 0,5 mm e inizio da 2 mm ora andiamo al laser ok move the laser away wow that's incredible that's incredible let me show you well, I'm not sure if you're able to appreciate in this video I show you that the power of this laser is sufficient to engrave steel but I don't recommend an intensive use on this material Scalphan S9 is the evolution of the S6 model but with an improved laser model able to cut playwood in half the time of older model in a previous video I show you how solid the Scalphan X6 frame is literally jumping on it the Scalphan S9 has the same build quality not and keep running on the weight donkey and keep running for the pace Grazie.